Nel contesto della collaborazione tra istituzioni pubbliche e private, oggi nella Sala Consigliare del Comune di Avezzano è stato firmato il protocollo d'intesa tra il Comune di Avezzano e l'Istituto Agrario Serpieri che permetterà ai concessionari degli orti urbani, assegnati già lo scorso anno, di frequentare un corso teorico-pratico tenuto dal professor Virginia Russo. Presenti numerosi pensionati assegnatari degli orti ed altri in attesa di seguirne le orme, il sindaco Gabriele De Angelis nel suo saluto tra l'altro ha detto abbiamo scelto di portare avanti quello che considero un prezioso progetto già avviato negli scorsi anni da Lino Cipolloni con il fattivo contributo di Gianfranco Gallese che offre alle famiglie che ne fanno parte un luogo non solo dove coltivare i prodotti della terra ma anche dove ritrovarsi e condividere una passione. Un progetto che ha rilevanza sociale ma che come ha sottolineato il dirigente Mauro Mariani ha anche un grande valore urbanistico in quanto recupera spazi di periferia che potrebbero essere a rischio degrado ridisegnandoli come nuovi spazi della città. Queste invece le considerazioni del vice sindaco Lino Cipolloni. Abbiamo deciso di stanziare altri 70 mila euro per assegnare nuovi 60 lotti di cui 50 alle persone fisiche e 10 alle associazioni. Sono già 5 quelle a cui stanno per essere assegnati i 5 lotti che fanno parte della prima tranche. Si tratta di Nguana, Avezzano, Unitalsi, Associazione Help Handicap Onlus e Ministero della Giustizia che affiderà l'area ad una associazione di volontariato che collabora con la direzione della casa circondariale di Avezzano. Il sindaco ha colto l'occasione per ringraziare la dirigente dell'Istituto Agrario Paola Angeloni. La scuola ha specificato il primo cittadino e di fondamentale importanza per il comune di Avezzano. Al Serpieri ogni giorno vengono formati dei tecnici che grazie alla loro preparazione sono diventati dei veri e propri nostri consulenti. Il vice sindaco ha annunciato che il nuovo bando per l'assegnazione degli orti dovrebbe essere pronto già per l'estate mentre i lavori per la loro sistemazione sono già stati avviati. I requisiti per partecipare al bando sono l'età, il 60% andrà a chi ha più di 60 anni e dell'arreddito ISE complessivo della famiglia. Presenta l'incontro come detto anche il consigliere comunale Gianfranco Gallese che ha contribuito al lancio dell'iniziativa, il dirigente comunale a patrimonio Mauro Mariani e il funzionale comunale Fernando Santomaggio. Ora le interviste. Allora siamo al comune di Avezzano, il vice sindaco in compagnia di? In compagnia del dirigente del parrimonio l'architetto Mauro Mariani e il dottor Santomaggio Fernando che è lui il responsabile, l'ideatore, quello che ha messo in funzione tutto questo popò di roba che riguarda gli orti urbani di Avezzano. Ci sono tantissime persone, non diciamo anziane, che curano questa iniziativa. Di che cosa si tratta in particolare e che cosa farete oggi? Beh intanto è partita questa iniziativa già dallo scorso anno ormai sono state assegnate circa 55 orti a 55 cittadini, uomini e donne che hanno inteso partecipare con un'attività minimale, sono degli orti di circa 60 metri quadrati e non di più dove si dilettano a fare la loro attività, a mettere ortaggi e quant'altro oltre che a socializzare, a stare insieme. È una cosa importante. Gli altri cinque orti verranno destinati a delle associazioni per quanto riguarda i portatori di handicap e disabili e non solo, c'è anche il discorso della medicina penitenziaria che è interessata su questo progetto per quanto riguarda i detenuti e questa è la prima tranche che è stata portata avanti. Sono stati realizzati questi orti con impianti di irrigazione, pozzi, sono dei locali per poter rimettere gli attrezzi. Tanto ci abbiamo creduto, io credo anche qui il dottor Giofranco Gallese, perché lui è stato anche veramente l'artefice insieme nella vasta amministrazione quando è partito il progetto e oltre a questo abbiamo inteso, visto il risultato, la grande richiesta che è arrivata, ci sono circa 200 istanze che hanno fatto altri cittadini per poter accedere agli orti urbani. Abbiamo quest'anno, inteso con il bilancio del 2019, inserire circa 70.000 euro alle spese di bilancio per quanto riguarda l'ampliamento e fare ulteriori 60 orti, oltre realizzare dei locali, servizi igienici, dotare di rimessi attrezzi e quant'altro in momenti anche di spazi più adeguati per poter socializzare, senza dimenticarsi. Una cosa importante, lo voglio dire perché insomma è un signore che ha lavorato tanto per portare a frutto un lavoro così importante e poi è stato sottratto tutto quello che aveva prodotto. Allora ci sarà un impianto di video sorveglianza di ultima generazione, notturno, pertanto può riprendere, può fare le riprese in tutto, che copre tutta l'area interessata agli orti urbani. Dopo la fame fa brutti scherzi, è il caso di dirlo. Grazie, io faccio un bellissimo ringraziamento innanzitutto all'ufficio, nella persona del dottor Santo Maggio e l'architetto Mariani e di tutto l'ufficio, perché io ho sposato quest'idea perché non rinego le mie origini di pastore guerriero e condadino marzo, come Benzai Paolo. Quindi nonostante poi la professione mi abbia indirizzato ad altri settori, ma come dice Branduardi in una canzone meravigliosa, il cuore di pensieri sono gli stessi. Quindi sono quelli di prima ed è un progetto che ho sposato con molto entusiasmo, proprio perché memoria di queste radici forti, per consentire alle persone magari più in difficoltà, ma non solo sul piano economico, sul piano psicosociale, di avere un motivo di vita, di avere un futuro, una progettualità. Quindi di nuovo rinnovo il ringraziamento oltre che al dottor Santo Maggio e anche al vice sindaco perché ha recepito questo messaggio, soprattutto per quanto riguarda le migliorie, perché è vero che io sto in opposizione, ma la mia è un'opposizione costruttiva e da rispetto dei progetti veri, dei progetti buoni all'interesse della collettività. Sui progetti scellerati chiaramente io sarò ampiamente contro, come mi conosce bene. Quindi grazie al dottor Santo Maggio all'ufficio, grazie al vice sindaco e al sindaco che ha ritenuto opportuno continuare su questa traccia, miglioreremo senz'altro questo luogo, questo progetto con delle migliorie, soprattutto credo hai parlato lì anche della costruzione di un locale igienico, una tettoia, che possa essere un punto di aggregazione, perché noi come politica dobbiamo stare vicino alle persone fragili, perché guarda Paolo, vicino al grande imprenditore è buon anche il dottor Galesa a starci a fianco. Grazie. Allora, da buone politico, Lino, mi hanno rubato una delle domande, c'è un momento di socializzazione anche questa iniziativa? Ma senz'altro, perché noi riaggreghiamo intorno a un luogo, a uno spazio che non è agricolo, ma l'abbiamo reso agricolo, parte della popolazione. Tra l'altro è un percorso lungo e parte a lontano, ricordavo ora il dottor Santomaggio, le prime esperienze nate negli anni Ottanti sporadicamente in grandi città come Torino, poi anche Roma, però nella Marsica noi abbiamo questa esperienza, ma Mezzano è un centro aggregatore in tutti i sensi, è anche un centro come dico, lancia idee, lancia politiche, speriamo che altri comuni possano raccoglierlo, è un luogo di socializzazione per gli anziani, un luogo di ritrovo, di attività e socializzazione, sono contento che lo dice il dottor Galesa, non solo per un fatto economico, ma per un fatto di recupero psicologico, di gente che non è più attiva, che la rende invece partecipe di un momento comune di attività e di operazione di unità. Lunga vita a tutti questi amici, per quanto riguarda invece il coinvolgimento di altre istituzioni, mi sembra che con l'Istituto Agrario avete fatto un accordo. Assolutamente sì, l'Istituto Agrario già dalla sua prima esperienza avvenuta un anno fa quando abbiamo deciso di fare il bando, si era reso disponibile a collaborare gratuitamente con il comune. Tra l'altro, oltre il progetto che presenteremo oggi, ci sarà un'ulteriore fase per quanto riguarda un percorso guidato all'interno degli orti. Metteremo delle baccheche dove ci sarà estremamente relazionato come comportarsi in ogni momento della stagione, cosa fare, quali sono le culture da avviare, quando va messa a riposo il terreno. È veramente una bella iniziativa. Tra l'altro, mi ricollego a quello che aveva detto il Vice-Sindaco, abbiamo intenzione di rafforzare soprattutto la videosorveglianza e prevederemo anche la recensione di tutti quanti gli orti, onde evitare un ingresso negli orari notturni che creano qualche disagio a chi sta adesso coltivando il terreno. Grazie a tutti, lì non è che ti vedremo in azione pure a terra? Beh, una cosa che non mi dispiacerebbe perché io sono stato a far visita proprio quando c'erano addirittura delle signore che stanno lavorando sull'orto. È una cosa bellissima altrettutto la discussione che si fa, mentre è il fatto anche di una sorta... Alcun momento di pettegoletto, un po' di pettegoletto non guasta. Però va bene, è una cosa bella, io ritengo che sia una cosa giusta e così come diceva il dottor Gallese, qua non è tanto lo spito sulla quantità, sul valore dei prodotti, ma bensì è proprio quello di mettere insieme delle persone, di stare insieme, di passare delle ore in un modo spensierato e tranquillo. Brevissimamente voglio fare un ringraziamento a tutti gli agricoltori e a tutti gli allevatori della zona perché io sarò sempre uno strano difensore del chilometro zero e dell'agricoltura biologica. Progetti scellerati in questa terra tipo cementifici, monnezza, spirituale, morale e materiale di ogni tipo avranno in me un guerriero contro.